Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi Allora, i requisiti per fare questo glitch, quelli che state presentando a schermo, sono i seguenti Andate in dispositivi della vostra play, andate in controller, andate in metodo di comunicazione Scusate ragazzi, non ci ho applicato E mettete usa cavo USB ragazzi Dovete mettere questa funzionalità, altrimenti il glitch non vi funzionerà Gli altri requisiti sono un centro operativo, un garage pieno di LG da sostituire con le sultan Una sultan RS nel centro operativo ragazzi E molta pazienza ma neanche tanta perché il glitch è abbastanza semplice, riesce abbastanza in fretta E nulla ragazzi Quindi quando avete tutti questi requisiti, ovviamente siate presidenti così potete richiamare l'auto Se vi si paga la sottomappa, cazzi e massi E' una sessione solo in vidi, mi sembra che ve l'ho già detto In maniera tale che non vi era un parcazzo nessuno Quindi salite nel veicolo Quando salite nel veicolo e sentite che il motore si è avviato Dovete premere L2 e disconnettere immediatamente il joystick Quando riconnettere il joystick avrete una situazione di questo genere Vi troverete fuori dal veicolo e senza auto Se il glitch sarà andato bene, troverete nel centro operativo mobile due auto Se invece è accaduto come è accaduto a me, che non c'è il veicolo Adesso ve lo faccio rivedere Basterà richiamarlo con l'MC Rimando a veicolo in deposito e vi ritroverete l'auto nel centro operativo A questo punto proseguiamo con il glitch, ragazzi Quindi rientriamo nel centro operativo mobile Risaliamo sull'auto Premiamo Appena sentiamo il motore L2 e disconnettiamo il joystick, ragazzi Ci troveremo fuori Se tutto è andato bene avremo un duplicato dell'auto nel centro operativo A questo punto il glitch è riuscito, come state vedendo Uscite dal centro operativo, acquistate il modulo del centro operativo Il modulo Officina Questo passaggio lo dovete fare una volta sola, ragazzi Dopodiché potete duplicare tutte le auto che volete Quindi andate in Warstock Andate sul centro operativo Andate sul terzo slot E comprate Officina E tutto il resto, insomma Dovete comprare Officina e l'Armeria Una volta fatto ciò Andate in Vio Confermate il tutto E avrete ovviamente la vostra auto Buggata dentro il centro operativo Una volta fatto questo, ragazzi L'unico passaggio che dovete fare È avere un po' di elegi Io le sto comprando perché Mi mancano E fare i soliti procedimenti di sempre Entrate in garage Scendete dal veicolo vicino al centro operativo Salite sul centro operativo Cambiate la targa all'auto E il gioco è fatto, ragazzi Ritornate in garage Prendete un'altra elegi Rifate lo stesso procedimento Detto questo, ragazzi Il video finisce qui Un saluto da Maxi Al prossimo video 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 Al prossimo video